Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti sotto tv Oggi ci troviamo in questa nuova serie Ci troviamo anche in pigiama perchè mi sono svegliato da poco E vedendo casa libera ho subito deciso di reccare Quindi non fateci caso Ci troviamo su questa nuova serie raga Che non ho mai visto fare da nessuno Perchè io seguo solo muri, jumpy, tech e stormy Non ho mai visto questa serie Cioè di vedere nei propri video youtube cosa ti traduce Cosa ti sottotitola ecco Vediamo se riusciamo a farci due risate Vediamo cosa ci traduce di bello youtube Quindi iniziamo e vediamo un po' che cosa Se ne pensi, ebay Ebay E ragazzi pure io mi devo comprare il pane Devo fare un po' di pubblicità no? La mia intro dice ebay Ok Iniziamo bene L'impersonale inquadratura Ok il mio salve a tutti ragazzi L'ha tradotto in Elt3 Mamma mia ansa Mia martini Martini Puglia poi eh Beh Po 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 i Non mi ricordo se era così Salve ragazzi e benvenuti su Halo TV Ok da oggi I miei video inizieranno con Sai il cervello Cuore oggi Ci troviamo in certi versi Abbiamo sorpassato i mille Le mille virus Allora alcuni episodini Non sorpassano gli indie game design Per farvi capire che Gli indie game Fanno cagare Alcuni Quindi i miei episodini Sono molto meglio Quindi Tranquilli Bettinelli E uno che fa la pasta mi sembra di sì Cioè non è che mi sembra Sembra uno che fa la pasta Axel se stai guardando questo video Non smettere di fumare Sotto il cielo di un po' magnifici Roma Hill Mi raccomando Axel non smettere di fumare Ho parlato di Gesù Cristo E mi dice che Che cosa triste è sola La devo Devo pensare che sia una bestemmia Perché se io parlo di Gesù e lui mi traduce Che cosa triste è sola Non è affatto cattolico YouTube YouTube birbantello Iniziamo A parte braccia Ma ho letto Cioè YouTube Allora per chi non lo sa questo è il problema Quando YouTube crash esce sta cosa E quando si blocca e non funziona più devi riavviarlo E questo mi capitò durante il video E YouTube se mi sorride Per prendermi per il culo anche lui Mannaggia Abbraccia e nooo Ottimo Ragazzi non è giornata Demi sims 4 Il giornale Siti amici in tv E si blocca il sito Incredibile Non ci credo Ragazzi ha detto una cosa vera Si blocca il sito Ecco Ragazzi ho smarrito un cane Un bellissimo cane a fascia Si chiama Mail Mail se stai guardando questo video ti salverò Hai? Hai? Stai buono Forse Mail No ha detto di stare buono Si blocca Si blocca La mia Cosa sta traducendo Gustson No Gustdons Tunes Credo se è inglese Coppa Tempo di Star Wars No Clink Albo Pretorio Oggi E Dio santo Sai quanto Ehi o santo Sai quanto conti la pena Per chi ha poco seno Ragazzi Se tu sei una ragazza E stai guardando questo video Mi dispiace Se hai un seno Sei poco seno Dovrai scantare Scantare Giusto Antonio Bravissimo Dovrai scontare Tanti conti delle pene Mi dispiace per te Ma la legge di Youtube È questa E va accettata Pietro Pietro E leva le mani Se non mi riesco a vedere Dieta delle banane Se non mi scrivo Una vagina video Ragazzi fatemi una vagina video Oppure vi giuro Che faccio la dieta delle banane Aspetta La dieta delle banane La dieta delle banane Suona malissimo Spero che non sia Spero che quelle banane Andranno a finire In bocca e nello stomaco No altrove Quindi fate questa vagina video Vi prego Maria Salvador Maria 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 Star Wars Preferivo i cavolfiori Sinceramente Che uno Allora ragazzi Per info e cavolfiore Potete contattare Su facebook E mail Guido Amico Con il codice AntonTV Avrete il 5% Di sconto Commento con un like Siva e Ok da oggi Io concluderò il video Dicendo Elevati Stupido Da oggi Io concluderò il video Dicendo Fanno sapere Con un commento Con una mixerata Hey hey Niente paura E no E niente più E niente più Ciao belli Calciomercato Vabbè raga Io spero che questo video Vi possa Vi possa piacere Raga Ho cercato In quanto È difficile ragazzi Cercare di intrattenere E dire qualcosa In un video del genere Quindi spero che Che ugualmente Vi sia piaciuto Che vi abbia Intrattenuto Come si deve E niente più Raga Fanno sapere Con un commento Una mixerata Hey hey E niente più Calciomercato